Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Allora, come avete letto dal titolo, oggi andremo ad aprire una posta che avete inviato voi a noi Comunque a me e a mio fratello e l'altro mio fratello e mia sorella Ok, allora, qua c'è scritto che le poste, si vabbè le poste e le firme Maaah, come si chiamano? Questo pacco, cioè questa posta, l'ha inviata questa carissima fan che si chiama Celentano Olimpia E ok, allora, Celentano Olimpia, Olimpia Celentano, basta! Scusate, c'è una mossa che ci dà fastidio, quindi vabbè Allora, Olimpia Celentano ci ha inviato questo e io adesso lo andrò ad aprire Ah, comunque, mettete like e iscrivetevi al mio canale Ok, andiamo subito ad aprirlo Allora, l'apriamo da qua Ok, ragazzi, l'ho aperta e ecco, ecco qua Oddio, allora ragazzi, soprattutto ringrazio tantissimo questa persona Ok, ragazzi, senza guardare, peschiamo la prima cosa Ok, la cosa più bella è un frascato Ecco, oddio, non ci credo Allora, dovete sapere che io amo tantissimo le lol, soprattutto quelle fake perché ne sono innamorata Allora, allora, qua lei ci ha dato Aspetta, stacco questo da Ecco, allora, prima leggiamo la lettera e poi Eh, apriamo le lol dopo Allora, ecco, abbiamo aperto Qua c'è scritto per Melissa, che io mi chiamo Melissa, ok, mi sano Andiamo ad aprire, è molto breve Allora Ok Allora, ragazzi Abbiamo aperto Allora, prima di leggere la lettera Eh, leggiamo prima chi l'ha fatto Allora Così siamo Ti aspettiamo a Napoli Quindi, questi già si sono Già si sa che sono di Napoli Quindi, allora, da Michela e Olimpia Poi Eh, Michela Adesso leggiamo subito la lettera Ehi Melissa Abbiamo deciso di spedirti questo regalino Per farti capire che ci teniamo tanto a te Sei tanto speciale e grazie per tutto l'affetto che ogni giorno ci dimostri A noi cosmiche Speriamo con tutto il cuore che questo piccolo pensierino ti sia piaciuto Detto questo, ti vogliamo tanto bene e ci manchi tantissimo Anche voi mi mancate tantissimo Ok È fatta così Con un cuore Adesso, ragazzi Allora, visto che dentro c'è altre lettere Però, visto che quelle là sono dei miei fratelli Quindi non le leggo Andiamo subito ad aprire le LOL Allora, vediamo quale apriamo per prima Aspetta, prima le stacchiamo Allora, quale apro, 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 apro Questa qua Mi incuriosisce tanto Ok, ragazzi, abbiamo scelto questo Andiamo subito ad aprirlo Che c'è qua la linguetta E lo impariamo Ok Io, dovete sapere che li abbiamo tantissimo Come ho detto prima Allora, prima le card Allora, c'è Troviamo questa Bellissimissima con dietro Vabbè, questo Questa qua Poi questa E questa qua Bellissima Bellissima Partiamo subito dalla LOL 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 Allora, il vestitino Eccolo, che carino Mamma mia È blu Con questa cosa Sempre blu Non so che cos'è sta cosa Vabbè Comunque è un vestitino molto carino Fatto molto bene Niente Poi Allora Abbiamo un altro accessorio Bellissimo Questo biberon Eccolo qua È rosa Eccolo Tutto rosa È carinissimissimo Poi 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 Un altro accessorio Non vorrei La lente di ingrandimento Oh Eccolo qui Eccola Con questa Mi sa che dobbiamo andare A leggere Qui Sulla bustina Boh Vabbè Ok Ragazzi Abbiamo una lente di ingrandimento Eccola qua Andiamo avanti Con la LOL Penso No Le scarpine mangano Aspettate Emangano Eccole qua Le scarpine ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Le vorrei Aspettate Ok ragazzi Abbiamo preso prima le scarpine Perché Volevo vedere Prima le scarpine Aspettate Eccole qui Che carino Ok Andiamo subito avanti Con la LOL Surprise Ecco Eccola No 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 Guardate L'ho trovata così Vabbè Mi sa che si può riattaccare Ok ragazzi Andiamo a mettere La testolina Aspettate Un secondo Un secondo Ok ragazzi Eccola qui Abbiamo messo il corpo È carinissimo Ho preso tutti questi capelli Ok Adesso andiamo a vestire Ci vediamo dopo Ok Eccola qui La LOL Pronta È carinissima Adesso passiamo Alla seconda busta Questa è la seconda bustina Andiamo subito ad aprirla Perché sono molto 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 Curiosa Ok Allora Eccola qui La linguetta Ah raga Forse è veramente D'ingrandimento Serve per questo Vediamo un po' Aspettate 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 Ok Qui C'è scritto Look for Se Secret Secret Clues Ok Andiamo subito ad aprirla Come ho detto Oddio Come ho detto prima Quindi intanto c'è la nostra LOL Che abbiamo aperto prima Ok Andiamo ad aprirla Per favore Ok Ok LOL Tu dopo Apriamo le card Che carina Allora Abbiamo questa Che c'è il gattino Poi c'è quest'altra LOL Che carina E anche questa Carinissima Adesso Peschiamo Peschiamo No La LOL No La LOL No Questa Scarpa Aspettate Che Ok ragazzi Abbiamo pescato Le scarpine Della LOL Eccole qua Aspettate Che ne metto bene Eccole Rosa Sempre carini Riusci Poi Abbiamo pescato Anche Questo Così Almeno Non devo pescarlo Dopo Questo È molto Più bello Di quell'altro Vestitino È con i fiocchi Viola E E E Rosa E qua È tutto blu Con i glitter Non so se si può Vedere Eccoli Ok Adesso Il biberon Sempre rosa Poi Poi La lente Di ingrandimento Poi Adesso Basta Adesso Andiamo a pescare Subito Non trovo Perché sono curiosa 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 Speriamo 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 che sia Bionda Speriamo che sia bionda Per favore Perché io Vi sono le bionda No Raga Ci ha sperato Ti giuro Che canino Guardate Adesso Ci vediamo dopo E vado ad attaccare Questo Raga Ho scoperto Una cosa Allora Ce l'avevo così Poi l'ho girata Guardate Su un bottone Guardate No raga Io Oddio Si elimina il buio Adesso Io andiamo a mettere la testa Vedere cosa succede Ok ragazzi Questa lol È molto strana Perché Voi non so se riuscite A vedere Che il corpo È di un altro colore La pelle È di un altro colore Vero che carina Adesso Facciamo senza luce E Guardate Guardate un po' Guardate L'agenda Oddio Che strabella Guardate È carinissima Adesso Andiamo a vestire Ci vediamo dopo Ok Questa è La seconda lol Che abbiamo chiesto Queste sono Tutte e due Sono carinissime Tutte bellissime Io le amo Grazie a chi me l'ha fatta Perché È una persona Bravissima Oppure Per urlare Non lo so Ecco Aspetta Ok ragazzi Abbiamo fatto le lol Noi le mettiamo da parte Tutto Mettiamo da parte Tutto Ok La nostra lettera L'abbiamo letta Adesso Vi faccio vedere Le lettere Le lettere Che sono rimaste Però non le leggo Ma le faccio tanto Vedere così Ok Sono due Ecco Questo È Di mio fratello Gabriel Eccolo qua Ok Questa è Di Gabriel Ve la faccio anche vedere Ecco Di mio fratello Ok Ecco Questa è la lettera Di Gabriel Eccola qua Si è sempre un cuoricino Ho già scritto Ti aspettiamo A Napoli Anche qua La lettera Questo È di mio fratello Daniel Cosmic Andatelo tutti A seguire Mi raccomando E Cosa è una lettera Qua Sempre La lettera Qua Ti scrive Di chi l'ha fatto Ti aspettiamo A Napoli Con il cuoricino Ok Queste erano Le lettere Adesso Mettiamo Le lettere Dentro Le bustine Poi Ce n'era anche Una più Mia sorella Diana Che però Se l'ha presa Lei Ovviamente Ok ragazzi Saluto Queste Ragazze Che l'hanno fatto Vi voglio tanto bene Come detto prima E Chi vuole Inviarmi altre lettere Io sono qua Lo faccio Io sono qua Ciao Ci vediamo al prossimo video